Dimentichiamoci che gli azionisti non hanno ricevuto niente, poi non bisogna dimenticare il fatto che gli obbligazionisti hanno sì, stanno ancora ricevendo perché non tutti l'hanno ricevuto. Il rimborso dell'80% faceva un 20% che balla lì e che grida vendetta. È per ottenere il risarcimento del danno subito che Feder Consumatori Arezzo ha invitato gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della vecchia Banca Etruria a costituirsi parte civile nel processo per la bancarotta fraudolenta, per il quale il prossimo 12 ottobre si celebrerà l'udienza preliminare. In quella circostanza dovrebbe essere unificato un secondo procedimento che è in corso sempre per gli stessi tipi di reati perché nel corso della prima udienza lo stesso pubblico ministero ha chiesto al giudice delle indagini preliminari la riunificazione dei processi. In quella circostanza, salvo decisioni diverse da parte del giudice, dovrebbe essere anche pronunciata l'ammissibilità di tutti i soggetti che hanno chiesto di costituirsi parte civile proprio all'ammissione a parte civile. Ad oggi sono oltre 1.500 le richieste presentate dall'Associazione a livello regionale. Il filone di inchiesta vede imputati 21 ex vertice dirigenti della vecchia Banca Etruria. Intanto proseguono anche i rimborsi forfettari gestiti dal Fondo Interbancario per i bondisti subordinati delle quattro banche salvate nel novembre 2015. Avviata anche le pratiche per l'arbitrato ANAC al quale possono tentare di accedere i risparmiatori che non hanno aderito al rimborso forfettario. 160 persone si sono rivolte a noi, di queste circa 141 le seguiamo noi, le facciamo la pratica per i rimborsi e diciamo che la procedura è avviata, nel senso che entro l'11 novembre dobbiamo presentare le domande e noi le presenteremo entro l'11 novembre. L'Associazione infine sta valutando anche azioni legali nei confronti della Pricewaterhouse che aveva il compito di revisionare i conti di Banca Etruria. Secondo noi non può essere ritorno tantenne, perché? Perché ha delle responsabilità oggettive. Quindi siamo messi in mano a un nostro consulente di peritare anche ciò che ha fatto la Pricewaterhouse e alla fine tenderemo le conclusioni. Noi come abbiamo annunciato non escludiamo che entro l'anno, primi del prossimo anno, si faccia un'azione, un'iniziativa anche contro la Pricewaterhouse e poi saranno legati a suggerirsi quella che sarà più opportuna, perché secondo noi anche lì ci sono responsabilità.